Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in un nuovo video, ma soprattutto benvenuti in una nuova puntata di Medioevo non ti temo, la rubrica interamente dedicata alla letteratura medievale. Durante la scorsa puntata ci siamo occupati di uno dei primi, anzi del primo grande testo letterario in lingua romanza, vale a dire la chanson de Roland, la canzone di Orlando. Oggi invece facciamo un passo avanti e ci occupiamo di un testo che è successivo, anche se di poco, rispetto alla chanson de Roland. I suoi protagonisti sono entrati a far parte dell'immaginario collettivo sia medievale che contemporaneo e la loro storia d'amore è una delle più famose in assoluto. Sto parlando di Lancillotto e Ginevra e il testo in questione è Lancillotto o il Cavaliere della Carretta di Crétien de Troyes. Prima di entrare nel vivo di questo video vi ricordo che se vi va di sostenere il canale basta cliccare sul pulsante iscriviti e attivare la campanella per restare sempre aggiornati con i miei contenuti. Qui sotto nell'info box vi segnalo trovate i link ai miei social e al mio blog. Premesse fatte, possiamo iniziare. Innanzitutto è essenziale chiarire di quale genere letterario stiamo parlando. Per quanto riguarda la canzone di Orlando, questa appartiene al genere letterario delle canzoni di gesta. Si tratta quindi di testi epici, i cui protagonisti sono Orlando e gli altri paladini di Carlo Magno che combattono per il loro re contro i saracini. I valori che stanno alla base delle canzoni di gesta sono quelli tipici di una società guerriera, quindi il coraggio in battaglia, la fedeltà nei confronti del proprio re, il rispetto della parola data, il senso dell'onore. L'ancillotto, il cavaliere della carretta, è invece un romanzo. Si parla di romanzo cortese o romanzo cavalleresco. La lingua è la stessa delle canzoni di gesta, quindi i romanzi cortesi sono scritti sempre in francese antico o francese medievale o Langue d'Hille. Ma siamo nel XII secolo, siamo nella seconda metà del XII secolo, quindi ne è passato di tempo rispetto al periodo in cui furono scritte le canzoni di gesta. E la società è profondamente cambiata, sta diventando sempre più ricca, sfarzosa e raffinata. E di conseguenza all'interno dei romanzi cortesi troviamo personaggi, valori, temi nuovi rispetto a quelli delle canzoni di gesta. I romanzi cortesi descrivono le imprese di cavalieri che partono, abbandonano la propria corte, il proprio re, e viaggiano attraverso luoghi magici, misteriosi, favolosi come foreste incantate, castelli stregati, fonti magiche, fontane magiche e di solito hanno un obiettivo preciso da raggiungere che può essere salvare una donzella in difficoltà oppure trovare un oggetto magico come per esempio il Santo Graal. Capiamo quindi che si tratta di testi molto diversi rispetto alle canzoni di gesta perché se nelle canzoni di gesta Orlando e gli altri paladini combattono per il loro re e combattono insieme al contrario invece nei romanzi cortesi o cavallereschi i cavalieri si allontanano dal loro re e combattono da soli, viaggiano da soli, le loro imprese hanno un carattere squisitamente individuale. Inoltre all'interno di questi testi fa la sua comparsa una tematica che invece nelle canzoni di gesta era completamente assente, vale a dire l'amore. Lancillotto e il cavaliere della carretta è proprio uno dei romanzi cortesi in assoluto più famosi e l'autore è appunto Crétien de Troyes. Crétien de Troyes era un poeta famosissimo, uno dei più grandi poeti del Medioevo ed era attivo nella seconda metà del XII secolo presso la corte di Maria di Champagne che era la sorella del re di Francia. Sappiamo pochissimo della sua biografia, in compenso ci sono pervenuti ben cinque romanzi cortesi e uno di questi è proprio quello di Lancillotto. Dei romanzi cortesi di Crétien de Troyes io ho questa edizione della Mondadori che li raccoglie tutti e cinque. I testi erano in versi mentre la traduzione è in prosa. Si tratta di racconti indipendenti l'uno dall'altro quindi li si può leggere nell'ordine che si vuole. Sono lunghi circa un centinaio di pagine l'uno e è vero che si tratta di testi scritti 900 anni fa ma la traduzione devo dire è scorrevole e quindi abbordabilissima. Ma entriamo nel vivo della nostra storia. Di cosa parla Lancillotto o il Cavaliere della Carretta e soprattutto che cosa diavolo è questa benedetta carretta? Poiché la mia signora di Champagne vuole che mi adopri a comporre un romanzo lo farò molto volentieri come colui che l'appartiene interamente per ogni cosa che possa fare su questa terra. Crétien da ora inizia il suo libro sul Cavaliere della Carretta. La materia e il senso sono dono generoso della Contessa. Egli si occupa solo di darne la forma e non vi pone molto di più che l'impegno e l'intento. Ci troviamo alla corte di Re Artù che ha organizzato un grande e sontuoso banchetto in occasione della festa dell'ascensione. A questo banchetto prendono parte tutti i più grandi cavalieri e tutte le dame del regno e ovviamente al fianco di Re Artù siede la regina Ginevra. Ad un certo punto a corte si presenta un forestiero che si rivolge a Re Artù e afferma che moltissimi uomini e donne del regno di Re Artù sono tenuti prigionieri all'interno della sua terra, all'interno del suo regno e che non potranno mai essere liberati. A meno che la regina Ginevra non accetti di seguirlo nella foresta accompagnato da un cavaliere che sfidandolo a duello la riscatterà, la potrà riscattare. A questo punto Re Artù accetta la sfida tra virgolette di questo forestiero, di questo straniero la regina Ginevra segue il forestiero nella foresta accompagnata dal siniscalco Cheu un cavaliere che a tutti i costi si è voluto proporre per difendere la regina e sconfiggere a duello lo straniero. Gli altri cavalieri però non si fidano della parola di questo forestiero quindi seguono il terzetto nella foresta ma dei tre del forestiero di Ginevra e di Cheu si perdono presso le tracce e quindi è chiaro che la regina è stata rapita. A questo punto i due più valorosi cavalieri della corte di Re Artù partono per cercare la regina e per salvarla e questi due valorosi cavalieri sono Galvano e ovviamente il nostro Lancillotto. I due si incontrano per strada e fanno la prima parte del viaggio insieme e ad un certo punto si imbattono in un nano che guida una carretta. La carretta ai tempi aveva la stessa funzione dell'agonia vale a dire sulla carretta venivano messi i condannati a morte o comunque coloro che erano accusati di omicidio o di furto e di conseguenza salire sulla carretta rappresentava il massimo dei disonori, il peggiore dei disonori. Nano, dimmi in nome di Dio se hai visto passare per di qua madama la regina ma quel nano, vile e di ignobili origini, non vuole dargli notizie e dice invece se vorrai montare sulla carretta che conduco prima di domani potrai sapere cosa è avvenuto della regina. Il cavaliere esita e prosegue per la propria strada senza accettare l'invito e fu per sua sventura e vergogna che non vi salì subito perché più tardi avrebbe avuto a pentirsene e avrebbe giudicato di aver agito male ma ragione, in disaccordo con amore, gli suggeriva di guardarsi dal montarvi e lo esortava e lo maestrava a non intraprendere un'azione che gli sarebbe forse tornata a onta e a biasima. Ragione non ha posto nel cuore ma nella bocca per questo osava parlargli in tal modo ma amore, che era rinchiuso nel suo cuore gli ordinava e lo ammoniva di montare subito. Il nano quindi propone all'ancillotto uno scambio se l'ancillotto accetta di salire sulla carretta e quindi di farsi vedere sulla carretta il nano gli rivelerà cosa ne è stato della regina Ginevra l'ancillotto esita, esita perché la ragione lo invita a non salire sulla carretta perché salire sulla carretta vorrebbe dire disonorarsi esporsi al pubblico disonore, al peggiore dei disonori ma amore invece lo sprona a salire sulla carretta lo invita a salire sulla carretta perché solo salendo sulla carretta potrà avere delle informazioni riguardanti la regina e quindi potrà riuscire a salvarla l'ancillotto esita lo spazio di due passi ma alla fine amore vince sulla razionalità l'amore vince sulla ragione e quindi l'ancillotto sale sulla carretta e da qui il titolo del romanzo capiamo quindi da questo passaggio che l'ancillotto è innamorato di Ginevra e che è disposto a tutto pur di salvarla che combatte e vive esclusivamente per lei per la cronaca a Galvano che pure è un valorosissimo guerriero uno dei più valorosi guerrieri della corte di Realtù non è passato nemmeno per l'anticamera del cervello di disonorarsi e di salire sulla carretta pur di avere delle informazioni sulla regina Ginevra il nano a questo punto rivela ai due cavalieri che la regina è stata rapita dal malvagio Meliagant che è il principe del regno di Gorre un regno misterioso da cui una volta entrati non è possibile fare ritorno e con la regina sono tenuti prigionieri molte altre donne molti altri uomini del reame di Artù dopo una serie di duelli, dopo una serie di incontri, dopo una serie di avventure i due cavalieri Galvano e l'ancillotto incontrano una fanciulla la quale rivela ai due che il castello di Gorre si raggiunge soltanto attraversando un fiume che è impossibile guadare ci sono due possibilità per poter oltrepassare questo fiume c'è un ponte sommerso dalle acque l'altra possibilità è invece un ponte sottile e tagliente come una spada e nessun uomo è mai riuscito a oltrepassare questi ponti e a sopravvivere a questo punto i due cavalieri decidono di dividersi Galvano sceglie di dirigersi alla volta del ponte sommerso mentre l'ancillotto si dirige alla volta del ponte spada il romanzo si focalizza esclusivamente sull'ancillotto che duello dopo duello, avventura dopo avventura ad un certo punto si imbatte in un misterioso cimitero un misterioso cimitero dove le sepolture sono vuote e dove sulle lapidi sono incisi i nomi dei cavalieri della corte di Realtù cavarieri che però sono ancora vivi le tombe infatti sono vuote e la tomba più grande è coperta da una pietra enorme l'ancillotto chiede ad un monaco custode di quei luoghi di chi sia quella tomba ditemi, a che serve la tomba più grande? ve lo dirò, rispose l'eremita è il sarcofago più bello di quanti ne furono mai fatti né io né altri ne abbiamo visto uno si ben disegnato e ricco è bello dentro e ancora più bello fuori ma non ve ne date pena non vi sarebbe di alcun vantaggio poiché non ne vedrete mai l'interno per scoprirlo ci vorrebbero sette uomini forti di grande statura e determinati ad aprire la tomba che è coperta da una lastra di pietra e sappiate che è cosa ben certa che per sollevare quella lastra occorrerebbe la forza di sette uomini più robusti di voi e di me le lettere che vi sono incise dicono colui che solleverà questa lastra da solo e con le proprie mani libererà quanti sono prigionieri nella terra da cui nessuno né chierico né gentiluomo è mai uscito dopo che vi era penetrato mai alcuno poter ritornarne perché in tale terra gli stranieri sono trattenuti in prigionia mentre quelli del paese possono entrarne e uscirne a proprio piacere subito il cavaliere afferra la lastra di pietra e la solleva senza pena meglio di come avrebbero potuto fare dieci uomini che vi avessero impiegata tutta la propria forza alla vista di tale prodigio il monaco è così stupito che poco manca che cada a terra non avrebbe mai creduto che in tutta la vita avrebbe potuto assistere a una meraviglia simile è chiaro quindi è scritto nel destino che l'ancillotto è colui che riuscirà a salvare la regina Ginevra e a liberare tutti gli altri prigionieri del regno di Gorre anche qui dopo una serie di avventure dopo una serie di incontri finalmente l'ancillotto giunge in prossimità del ponte spada ed è deciso a superarlo ed è deciso a percorrere questa strada nessuno è mai riuscito nell'impresa ma ovviamente l'ancillotto che non è un uomo qualunque ma è un po' un supereroe ovviamente riesce a oltrepassare il ponte ma comunque è gravemente ferito infatti le mani e i piedi di l'ancillotto sono piene di tagli profondi che il cavaliere si è procurato proprio nel tentativo di oltrepassare il ponte spada proprio mentre l'ancillotto sta compiendo quest'impresa eroica dall'alto della torre più alta del castello di Gorre lo stanno guardando il re di Gorre oh mio Dio non mi ricordo il nome Baudemagu e il figlio Meliagant appunto il re è profondamente colpito dal coraggio e dal valore di l'ancillotto e quindi è ben disposto nei suoi confronti è disposto ad accoglierlo benevolmente con tutti gli onori e proprio in virtù del suo coraggio e in virtù della sua forza in virtù del suo valore è disposto a restituirgli la regina e a lasciarlo partire per tornare a casa ma il figlio, il malvagio Meliagant che appunto colui che aveva rapito la regina e l'aveva portata a Gorre non è disposto a cedere così facilmente Ginevra all'ancillotto e si ostina a volerlo sfidare in un duello l'ancillotto ovviamente per quanto gravemente ferito per onore non può rifiutarsi e quindi i due si scontrano si scontrano a duello e in condizioni normali chiaramente l'ancillotto avrebbe sconfitto Meliagant in 4-4-8 però essendo appunto gravemente ferito sta per avere la peggio è in gravi difficoltà ma non appena si accorge che da una delle torri del castello la regina lo sta guardando ecco che il dolore scompare ritornano le forze e l'ancillotto è sul punto di sconfiggere Meliagant a questo punto il re di Gorre chiede all'ancillotto di risparmiare il figlio e Meliagant tra l'altro non ne vuole sapere nel senso che vorrebbe andare avanti con il duello è convintissimo di riuscire a sconfiggere l'ancillotto alla fine i tre trovano un accordo Meliagant potrà a distanza di un anno sfidare di nuovo a duello l'ancillotto e chi vincerà il duello si terrà la regina la situazione in teoria si calma si risolve anche se temporaneamente e quindi l'ancillotto ha la possibilità di incontrare la sua amata Ginevra ma le cose non vanno esattamente come lui aveva previsto Signora, ecco l'ancillotto che viene a rendervi visita dice il re deve esservi di grande piacere e gradimento a me? Sire come potrebbe piacermi? non so che farmene della sua visita come signora? replica il re che era molto franco e cortese da dove avete tratto ora tale sentimento? in vero disprezzate troppo colui che vi è tanto servito nel corso di questa impresa egli ha spesso esposto per voi la vita a pericoli mortali e vi ha liberata e difesa dal mio figlio Melegan che solo a malincuore vi ha resa la libertà davvero Sire? egli ha malimpiegato per me il proprio tempo non negherò infatti che non gliene sono affatto grata Ginevra quindi si rifiuta di parlare con l'ancillotto che è poverino dopo mille avventure mille duelli, mille peripezie si aspettava ben altra accoglienza non capisce quale sia la ragione dello sdegno della regina non capisce come mai la regina lo rifiuti in maniera così schifata tra virgolette e ne soffre profondamente soffre profondamente non fa altro che chiedersi quale sia il motivo di questo rifiuto comunque poi per distrarsi decide di partire alla ricerca di Galvano di cui non si hanno più notizie e di cui si sono tutti dimenticati e ne succedono di tutti i colori perché quando l'ancillotto è in viaggio per appunto andare alla ricerca di Galvano l'ancillotto viene rapito, viene imprigionato e si diffonde la falsa notizia della sua morte la regina che viene a sapere della morte di l'ancillotto si dispera si dispera perché si rende conto di essersi comportata come un enorme e quindi vuole morire non mangia più piange oh il mio povero l'ancillotto e vuole lasciarsi morire praticamente e a questo punto si diffonde la falsa notizia della morte di Ginevra e quindi adesso è l'ancillotto che vuole lasciarsi morire che soffre che non vuole più vivere poi ad un certo punto si scopre insomma che queste notizie sono false l'ancillotto viene riportato al castello di Gorre e finalmente i due possono incontrarsi e chiarirsi Ginevra abbassa decisamente la cresta perché ha avuto paura che l'ancillotto fosse morto e finalmente i due si chiariscono Signora, disse mi chiedo meravigliato perché ieri l'altro quando mi vedeste mi faceste così cattivo viso e non mi rivolgeste una sola parola poco è mancato che per questo mi mettessi a morte io allora non ebbi l'ardire di chiedervene la causa come adesso faccio Signora sono pronto a riparare ma voi mi dovete spiegare quale fu il mio torto per il quale mi sono disperato grandemente come? non provasse dunque vergogna e non temeste la carretta disse allora la regina vi montaste solo controvoglia poiché esitaste per lo spazio di due passi ecco la verità per questo non vogli parlarvi né rivolgervi il mio sguardo avete capito quindi Ginevra non ha rifiutato inizialmente l'ancillotto perché si è disonorato dopo che è salito sulla carretta ma non voleva più parlare con l'ancillotto perché l'ancillotto ha esitato un millisecondo a salire sulla carretta e quindi per un millisecondo ha anteposto la razionalità all'amore per lei e qui ragazzi si vola letteralmente si vola i due amanti a questo punto si mettono d'accordo per incontrarsi la notte successiva Ginevra dorme nella stessa stanza di Keu che è il siniscalco quello che all'inizio l'aveva accompagnata nella foresta che è stato rapito con lei e che si scopre essere gravemente ferito tant'è che giace in un letto pieno di bende pieno di pomate pieno di medicamenti fuori dalla porta di Ginevra ci sono delle guardie che fanno sorveglianza e di conseguenza ai due non resta che incontrarsi alla finestra si mettono d'accordo per incontrarsi alla finestra della stanza una volta calato il buio l'ancillotto si trasforma in superman e strappa le inferiate dalla finestra della stanza di Ginevra e si ferisce anche gravemente si amputa un dito e mezzo e sanguina zampila come una fontana ma non si rende conto di nulla non avverte alcun tipo di dolore perché è talmente preso dalla passione dall'amore per Ginevra che non si accorge di nulla ora l'ancillotto a quanto desiderava la regina non vuole altro che la sua compagnia e il piacere che gli ne deriva ed egli la tiene tra le braccia mentre ella lo stringe con le proprie è si dolce e grato il gioco dei baci e delle carezze che non è menzogna affermare che essi provarono una felicità tanto prodigiosa quale mai fino a oggi si è saputo o sentita dire ma io la tacerò per sempre perché non deve essere narrata in un racconto tra tutte le gioie la più eletta e deliziosa fu quella che la storia ci tace e ci nasconde la mattina successiva l'ancillotto come se niente fosse con grandissima nonchalance esce dalla finestra rimette a posto le inferiate nessuno si accorge di niente e i due anche se a malincuore si separano ma le avventure non sono finite qui non sono finite qui perché il letto di ginevra è macchiato del sangue di l'ancillotto che si era ferito strappando le inferiate della finestra e meleagante l'accusa di aver giaciuto con il siniscalco che le cui ferite erano appunto ancora aperte e sanguinanti l'ancillotto deve difendere necessariamente l'onore di ginevra e quindi sfida nuovamente a duello meleagante di nuovo meleagante sta per essere sconfitto di nuovo il padre chiede all'ancillotto di fargli salva la vita e di nuovo l'ancillotto accetta e ancora una volta disoccupato ancora una volta non sa che cosa fare e quindi che cosa fa parte alla ricerca di galvano che è ancora disperso poveraccio galvano questa volta viene ritrovato è messo abbastanza male però viene ritrovato vivo ma l'ancillotto viene rapito meleagante lo fa rapire con l'inganno fa costruire una torre che non ha nessun ingresso che non ha nessun accesso se non una piccola finestrella a cui l'ancillotto viene dato quel tanto che basta per giusto appena appena per sopravvivere e quindi di l'ancillotto si perdono le tracce lui è tenuto prigioniero in questa torre nel frattempo ginevra galvano e tutti gli altri prigionieri ex prigionieri ormai di gorre tornano nel regno di artù pensando che l'ancillotto li stia aspettando lì ma ovviamente non lo trovano vado velocemente verso il finale anche perché avete capito le trame di questi romanzi sono abbastanza intricate abbastanza ricche di personaggi ricche di eventi l'ancillotto verrà liberato da una fanciulla che si accorge della sua presenza all'interno di questa torre misteriosa l'ancillotto torna da re artù meliagant lo sfida di nuovo a duello l'ancillotto vince e questa volta per sicurezza lo decapita come abbiamo visto in questo romanzo troviamo i valori che erano già tipici delle canzoni di gesta quindi il coraggio in battaglia o in un duello la pietà verso i vinti il senso dell'onore il rispetto della parola data ma ciò che muove i fili di questa vicenda è senza dubbio l'amore tra l'ancillotto e ginevra e in questo periodo quindi nel dodicesimo secolo l'amore assume le forme dell'amor cortese l'amore in letteratura assume le forme dell'amor cortese per cui l'uomo e la donna rivestono ruoli ben precisi e si relazionano secondo modalità altrettanto precise altrettanto predefinite innanzitutto l'uomo e la donna non sono posti sullo stesso piano la donna è vista come un essere sublime irraggiungibile quasi divino e quindi sta in una posizione riveste un ruolo una posizione di netta superiorità rispetto all'uomo l'uomo si mette a servizio della donna è completamente al servizio della donna tant'è che si parla di servizio d'amore quindi c'è un rapporto di subalternità la donna che riveste un ruolo di forza di superiorità rispetto all'uomo che invece le è completamente sottomesso e che non fa altro non desidera altro che servirla in secondo luogo l'amore nella forma nelle forme dell'amor cortese è per definizione un amore adultero quindi si realizza al di fuori del vincolo matrimoniale l'uomo e la donna sono amanti e di conseguenza si tratta anche di un amore segreto che va tenuto nascosto dal momento che l'amore è adultero e segreto va da sé che si tratta di un amore che è perpetuamente inappagato i due non riescono a vivere apertamente la loro storia i due non riescono apertamente a vivere il loro amore il loro è un amore ostacolato e tanto più insuperabili sono gli ostacoli tanto più la passione si fa ardente e questo amore implica sentimenti positivi e negativi insieme perché da un lato la passione dà grande energia grande vigore all'uomo all'amante d'altro canto però questa stessa passione lo fa soffrire perché non si raggiunge mai e quindi l'amante vive nel dolore vive nella disperazione infine non tutti possono provare l'amore cortese non tutti possono provare questo sentimento soltanto i cuori gentili possono provare l'amore in questa forma e per cuori gentili si intende cuori nobili e a sua volta l'amore nobilita a sua volta l'amore ingentilisce l'animo e nobilita l'animo e quindi amore e cuore gentile sono un binomio inscindibile dove c'è uno c'è l'altro l'uno implica necessariamente l'altro ora che cosa voglia dire cuore nobile cuore gentile è un bel dilemma si fa riferimento alla nobiltà di sangue oppure si fa riferimento ad una nobiltà che ha a che fare con il valore e le capacità della persona sono stati scritti fiumi di inchiostro su questo tema quindi ci vorrebbe un altro video ci vorrebbe un altro video ma torniamo ai nostri l'ancillotto e ginevra come vedete la loro storia incarna perfettamente quelli che sono i canoni dell'amore cortese il loro è un amore adultero quindi l'ancillotto ama ginevra ma ginevra è sposata con re Artù l'ancillotto farebbe di tutto per esaudire i desideri di ginevra ginevra gli ordina di combattere e l'ancillotto combatte ginevra gli ordina di gettare la spada e di risparmiare il nemico l'ancillotto getta la spada e risparmia il nemico ginevra si arrabbia perché l'ancillotto ha esitato due secondi a salire sulla carretta e non gli vuole più parlare bene l'ancillotto abbassa la testa e se ne va ginevra gli ordina di entrare nella sua stanza ecco che l'ancillotto svelle le inferiate della stanza di ginevra ferendosi pure gravemente e via dicendo tra l'altro la superiorità di ginevra si rispecchia anche nella loro diversa posizione sociale nel senso che l'ancillotto è un cavaliere di re Artù è un valorosissimo cavaliere ma ginevra è la regina è la moglie del re questa particolare concezione dell'amore la troviamo nei romanzi cortesi ma la troviamo anche nella lirica provenzale nella lirica dei trovatori la ritroviamo nella scuola siciliana e nelle poesie dei primi poeti toscani verrà poi ripresa dal dolce stil novo e quindi da cavalcanti guinizelli e poi verrà ripresa anche da Dante Alighieri quindi si tratta di una concezione dell'amore che ha segnato profondamente le origini della nostra letteratura della letteratura in lingua volgare ma anche in lingua italiana soprattutto sempre tornando al nostro Cretien de Troyes e al nostro cavaliere della carretta è chiaro che non è stato Cretien de Troyes ad inventarsi i personaggi di Lancillotto di Ginevra o di re Artù perché si tratta di personaggi che sono già presenti nell'immaginario nelle leggende celtiche molto probabilmente Cretien de Troyes non ha nemmeno inventato la storia d'amore tra Lancillotto e Ginevra ma senza dubbio è stato il primo a metterla nero su bianco Lancillotto o il cavaliere della carretta è il primo testo letterario che propone che mette in scena l'amore tra Lancillotto e Ginevra la loro storia d'amore poi è stata riscritta ripresa in moltissime versioni tanto che come dicevo prima questi due personaggi e la loro storia sono entrati a far parte dell'immaginario collettivo sia del medioevo ma anche del mondo contemporaneo perché sono moltissimi i film per esempio che parlano appunto dell'amore tra Lancillotto e Ginevra a tal proposito non posso chiudere questo video senza chiamare in causa il nostro somo poeta vale a dire Dante Alighieri e il quinto canto dell'inferno il quinto canto dell'inferno i protagonisti del quinto canto dell'inferno sono Paolo e Francesca Francesca da Polenta è una giovane bellissima ragazza che è stata data in sposa a Gianciotto Malatesta signore di Limini lei però si innamora del cognato del fratello di Gianciotto Paolo e quando Gianciotto scopre la tresca tra i due li uccide abbiamo quindi a che fare anche in questo caso con un amore adultero con un amore impossibile proibito e Dante colloca questi due personaggi colloca questi due amanti nell'inferno nel secondo cerchio dell'inferno che è il cerchio dei lussuriosi vale a dire il cerchio in cui vengono punite le anime che hanno sottomesso la ragione al talento vuol dire le anime che hanno anteposto la passione l'amore alla razionalità ed è proprio quello che fa di fatto l'ancillotto quando deve decidere se salire sulla carretta la ragione gli vieta di salire sulla carretta ma alla fine lui segue la voce dell'amore e quindi anche in questo caso alla ragione si antepone la passione si antepone il talento e quando Dante chiede a Paolo e Francesca di raccontargli come si sono resi conto di essersi innamorati come si sono resi conto di provare gli stessi sentimenti l'uno per l'altro Francesca risponde che tutto è cominciato leggendo un libro leggendo un libro che racconta guarda caso la storia di l'ancillotto di Ginevra che racconta la storia di un amore proibito come il loro di un amore adultero come il loro e quando i due sono arrivati al punto in cui l'ancillotto bacia finalmente la bocca di Ginevra le labbra di Ginevra a questo punto anche Paolo bacerà la bocca di Francesca e da questo momento in poi i due si abbandonano alla passione mi fermo qui non vado oltre perché anche in questo caso ci vorrebbe un altro video se non un'intera serie di video bene ragazzi spero che anche questa puntata di Medioevo non ti temo vi sia piaciuta io ringrazio Enrico che anche questa volta mi ha prestato la sua voce e ha contribuito alla realizzazione di questo video vi lascio il suo canale linkato qui sotto nell'info box se siete arrivati fino a qui mi raccomando lasciate un pollice in su io mando un grosso abbraccio e tanti cuori gentili a tutti voi e vi do appuntamento al prossimo video ciao